Ciao, oggi vorrei consigliarvi una serie tv, intervista a Putin dei primo Oscar Oliver Stone. La serie è composta da 4 puntate da circa 1 ora ciascuna. Si tratta di una serie di interviste al Presidente della Federazione Russa girate tra il 2015 e il 2017. I temi affrontati sono vari, la lascesa politica di Putin, la crisi d'Ucraina, l'economia russa e l'intervento in Siria. Stone pone delle domande dirette e pungenti e Putin risponde sicuro. L'intervista mostra anche dei contesti inediti come la dacia privata di Putin e la sua partecipazione a una partita di hockey. Attraverso le puntate viene mostrato Putin sia come il Presidente della Federazione Russa ma anche come persona. Emergono così le convinzioni sui temi di politica interna e internazionale con particolare attenzione nel fornire il punto di vista russo alle vicende. Ma anche vengono mostrate le opinioni personali su temi come la situazione della comunità LGBT in Russia e nel complesso Putin si trova a confrontarsi con le domande poste da Stone che ricalcano a volte la narrazione delle vicende da una prospettiva americana. Il quadro che ne esce mostra Putin sicuro, preciso ma anche pungente e a tratti sfuggente. No, però non vera! Alla prossima! Grazie a tutti.